5 minuti di ritardo, la squadra, dovevamo provare l'ultima punizione Eccoci qua, pronto, io sono tutto vostro Sopra la barriera, lo schema sopra la barriera Prego No, forse tutti volete sapere l'incontro col Presidente Così poi parliamo di calcio e non dire, magari subire le domande Era molto tempo che non mi rilevo col Presidente Abbiamo fatto una buona chiacchierata, voluta anche fortissimamente sia da Roberto che da Andrea Eravamo tutti e quattro presenti Io tra persone intelligenti gli ho detto quello che pensavo Il Presidente mi ha detto le sue cose perché tra persone intelligenti è giusto dirsi le cose Soprattutto gli uomini veri debbono dire ciò che pensano, non nascondersi, confrontarci Penso che è stata una bella cosa E quindi siamo molto contenti perché poi a prescindere il calcio c'è l'aspetto umano Io penso di aver avuto sempre un buon rapporto, lui con me, io con lui A prescindere le situazioni aziendalistiche dove ci possono essere delle divergenze Perché essere yes man nella vita non esiste E quindi sono molto contento di averlo rivisto E in ultima forma è nulla, tutto qui